musica 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 e mira ha un bollato ah già? mira per come noi guardiamo grazie io ti affetta bastante mira per come sto io questa bolsa ha venito qui? no, io devo mettere qualcosa per che non venga il excremento quindi viene pure l'aguito e si viene pure l'aguito e si viene da un nido però se io non avessi posto questo è ugualito a tutti se non viene con tutto il excremento e questo non stiamo usando noi stiamo usando questo viene da lì quindi quindi qui dove stanno scavando si sta obstruendo quindi si sta obstruendo si subi come non sta usando questo si viene da lì e viene da lì e causa questo? è ugualito e che le ha detto la empresa? con tanta insistencia di parte di noi ora stiamo vedendo il risultato quindi stanno scavando per dare una soluzione casualmente perché lì sta attorato si sta obstruendo quindi qual'è il problema che non può fare questo lì avessi l'asfaltare però noi non l'avessi l'avessi perché prima cosa si avessi asfaltato avessi 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 è l'avessi avessi è l'avessi avessi 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 guarda la strada guarda 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 la strada guarda 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 era affettabile. Abbiamo un buzone. Un buzone. Anteriormente. Però la firma, non la firma che stanno ejecutando, ma la firma di MAPA. Che ha fatto con noi? Ellos hanno trovato un buzone qui. Quindi, se questo buzone exista ora, la desatorata sarebbe da qui allà. E sarebbe più facile. O di qui allà. Allà c'è un buzone. Questo è benissimo. Lo hanno annullato. Quanti metri? Quanti metri? Siamo parlando di 120 metri. E questo non ha fatto in considerare il MAPA San Martino? E questo non ha fatto in considerare. E ora ci sono le cose. E quali sono voi? Obviamente. Tutti noi affettiamo. La gente che vive da qui. Tutti il deserto che viene da qui. Viene da qui. Qui va da qui. E tutta la gente che vive da qui. E tutta la gente che vive da qui. E tutta la gente che va da qui. Lamentabile. E tutta la gente che è molto grande. E tutto è un olore che non si sopporta. È molto bello. E anche, un po' di vecino, al municipio di Morales, per che venivano a vedere, per che la cunetta di lì sia più ampio. perché il caudale dell'acqua non è la sua capacità, la cunetta. Per questo abbiamo bisogno di parlare quando hanno inundato la gente. Tutti hanno inundato. E la cunetta di all'acqua è così, non è molto alto. È così così, non è molto alto. E tutto il desagro, tutto il desagro, tutto il desagro, tutto il desagro, tutto il desagro. Che ci hanno detto? Ese non è la sobra di loro, che uno deve andare al municipio a vedere per solucionare questo problema. Perché la vereda va a venire 10 minuti o 10 minuti. È così come dal l'altro lato lo che pesa, si va a venire la curva, la vereda. Però io non so perché la vereda va a venire. E per il ingeniero lo che dice che è un metro fresco. Un giorno viene e dice che le va a bajare il nivel del vereda. Non è un po' di nessuno lo va a bajare. Io sono duelli di qui e nessuno lo va a bajare. A me mi hanno detto che la vereda va a essere alta. E se si è alta, poi mi hanno levantato più alto. Le ho detto io. E questo è il risultato che ha quedato male. E più mi hanno chiesto il nivel del vereda. Io non le ho permesso, al joven. Allì va a quedar. Perché io un giorno, se faccio il mio bagno, andate a 2 metri, e le faccio un po' di nessuno. E così le ho contestato al joven. E così le ho contestato veramente. Perché a me mi ha dato colore. Io il primo giorno le ho detto, quando mi ha detto che la vereda va a essere alta, che mi le va a bajare la caja. Non mi le va a tocare la joven. Non mi le va a tocare la caja. Perché il primo che hanno venito a costruire, perché io ero il primo che mi hanno messo la caja. Perché io ho pagato i 400 soles, al comitè. Perché io avevo il nostro disagio, e noi c'è l'attra. L'attra c'è l'attra. ma c'è l'attra. Ese 2 anni fa. Ero che mi hanno preoccupato, e farela la construzione. Per me non si pharmaceuticali con i vecini. E come il signo non vuole avere capolire. Io con il signor non vuole avere problemi. A me non vuole avere de pur a riguardo. Non vuole avere problemi. Io come avevo a lavorare c'è l'attra c'è l'attra. Io 4 mesi non avevo il passaggio. Io avevo i dei 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 detegri. quindi io sono andato al comitè di Tupacamaro per fare il desaggo. Come io stava perjudicata, qui abbiamo il desaggo, quindi per io sanare i problemi, ho pagato. Io gli ho pagato, gli ho pagato, gli ho pagato.